Buonasera mio nuovo caro amico Melchiade Garavelli, devo leggerlo perché sennò non mi ricordo, mi scordo, la mia memoria è terribile. Bene, mi presento, sono Enrique Paz, tenore ancora, ancora, ai miei 71 anni e sono stato il primo allievo del grandissimo Alfredo Krauss, da lui ho imparato la tecnica che mi permette ancora di cantare qualche cosa. Sono stato il suo allievo, mi conosce nel 1972 e ho lavorato con lui fino al 1975. Bene, io voglio cantarti un'aria molto bella, molto conosciuta, ok? Che geli la manina della guardia di Giacomo Puccini, perché? Che geli la manina se la lasci riscaldar C'è il car che Giova al muoio non si trova Ma per fortuna è una notte di luna E qui da luna la mia omicina Aspetti, signorina Le dirò con due parole Chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi sono? E che faccio con il mio cuore? Chi sono? Chi sono? Sono un poeta Che cosa faccio? Scrito Che cosa faccio? Chi sono? C'erro Si sono? Rive divini d'amore per sogni e per rive E per castellaria Un'annimo miglio d'amore Un'annimo miglio d'amore Un'annimo miglio d'amore Un'annimo miglio d'amore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, questo è tutto. Un grande abbraccio per te, per la mia amata Italia, per la mia amata Italia. Sono pazzo innamorato d'Italia. Sono molto, 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 molto amico di Piero Visconti, grandissimo tenore, amico mio. E' Paolo Barbacini, come no. Tutti e due meravigliosi. Bene, un abbraccio grande e ti ringrazio per l'amicitia. Ciao.